Posso dire una cosa, Silvia? No, io lo inviterei a non dare giudizio e ad esporre il caso. Ma posso dire una cosa comportamentale? Siccome prima quando il consigliere Montemezzi la interrompeva continuava a dire che non vorrebbe, visto che sta parlando una presentazione, se il consigliere giudizio è iniziale... No, io sto dicendo ancora di evitare interventi diretti e mirati e i giudizi, abbiamo invitato per concessione un esponente degli oppositi. No, io sono mai stato... Non è stato il consiglio, non è stato il consiglio a far male. Non è stato il consiglio, non è stato il consiglio. Adesso, prego. Prego. Sono in ballo, 20.000 euro, 5.000 da parte della provincia di Verona con l'assessore Ambrosini e 15.000, Marco Ambrosini, e 15.000 dalla Popolare di Verona che ho già rifiutato quelli della Banca Popolare in quanto il dottor Ferriane mi ha chiamato in giuglio e mi ha detto noi abbiamo il conto, vi dico tutti i nostri affari, abbiamo il conto aperto sul Banco Popolare di Verona. Sul conto oscillano 30.000 euro della fondazione. Noi al comune di Nogara non abbiamo mai per questo intervento chiesto un euro. Volevamo solo collaborazione per quanto riguarda l'esecuzione dell'intervento. Ma detto il dottor Ferriani, ci sono in questo periodo che conosciamo tutti economico disastroso per l'Italia, ci sono associazioni non con l'acqua alla gola, indebitate all'inverosimile. Non possiamo mettere sul conto altri soldi quando il vostro conto è positivo di 30.000 euro. mi impegno a darmi soldi se quest'estate iniziate i lavori e andate avanti, pagate l'impresa, vedo che i soldi calano e vi do il finanziamento perché l'opera venga portata in vero. Quindi scusi, non è un banco? No, non è un banco. Non è che ha parlato di banco. Io ho sempre detto sull'arena che ho perso dei contributi che mi permettevano di portare l'opera senza debiti. Al giorno d'oggi penso che sia un miracolo. Come è successo un miracolo quando abbiamo iniziato l'oratorio e sapete con quanti soldi l'abbiamo iniziato? Ho qui tutta l'organizzazione economica. Con neanche un euro. Con neanche un euro. e siamo riusciti in due anni a trovare 150.000 euro. Grazie al Banco Popolare. Ecco, d'accordo? Allora, questo per rispondere sui contributi. Per quanto riguarda il parcheggio che si dà meraviglia a tutta la ronda del comune di Logara perché il parcheggio veniva realizzato da noi a nostri spesi sul nostro terreno. Cosa ne cerca di spropio di terreno o cosa? Lo facevamo noi dietro 30, 40... Ci sono i progetti che depositano. Lì veramente un assessore dica su cosa facevate il parcheggio o cosa. E lo risposta. No, ma c'è un'altra considerazione. Prego. Lo risposta. Lo risposta che è il terreno. L'assessore andava in cerca dove doveva scompiliare il terreno. È nostro. Ve lo offrivamo. Terreno già pagato. Il parcheggio lo realizzavamo in collaborazione. Abbiamo fatto uno scritto dal notario in collaborazione con la famiglia del dottor Pasini, dentista. E veniva fatto tutto. Perché il terreno del parcheggio è comproprietario la fondazione con la famiglia Pasini per realizzare un parcheggio di utilità sia alla villa Casa della Misericordia come all'oratorio San Bartolomeo Postolo. Ma se un comune non conosce questi elementi... è grave, è grave. Va bene, è grave. Niente. Cosa volete sapere, conti? Il vostro posto. Ma grazie a voi, intervento. Penso che se tentare ulteriormente nel merito credo che il fatto che l'assessore non fosse neppure conoscenza non a caso non avevo risposto prima perché speravo appunto che quando la discussione uscisse il discorso dei parcheggi il fatto che l'assessore non lo sapesse... Il fatto che l'assessore... No, no, scusate la seconda. No, però... Ma sa che è tricissato, ma lo parliamo. Posso lezere quello che abbiamo quando noi si è stato difficile e lo letto anche al tuo collega che vuole mettere la sua traccia per aver partecipato. ringrazio anch'io a te è il piacere di averla conosciuta. Sì, anch'io. Allora, progetto, mozione, progetto per la prostituzione questo è dato dagli uffici quindi, di solito, dove l'assessore si regolano i ministri si chiede la documentazione e nel mio caso ho fatto fare le allegazioni. Questa io ho letta in un'altra consiglia una. La realizziamo sempre. Il progetto per la prostituzione di una sacristia di pertenenza dell'oratorio è titolato San Antonio Apostolo in località palanara Iperamministrativo. Il ritrovamento della mozione del 23.09.2015 è venuta agli atti di utizia in data 29.09.2012 protocolli del 12.606 intesa a far chiarezza il consiglio comunale Iperamministrativo relativo alla vera organistica per la realizzazione di una sacristia di pertenenza dell'oratorio intitolato San Antonio Apostolo scritto in via Tavano e alla risoluzione del problema dei parcheggi in prossimità dello stesso. Alla luce delle istanze e della documentazione presentata dalla fondazione Oratorio San Antonio Apostolo in località si in relazione di un'idea di un'idea di un'idea quanto secolo quindi andiamo a dire delle date in data 18.12.2010 protocollo 16.881 la fondazione Oratorio San Antonio Apostolo ha presentato istanza di autorizzazione per certistica ai sensi della parte terza capitolo 4 del DZL 42.2004 in quanto l'edificio di progetto ricade all'interno della fascia di tutela per certistica pari metri 150 determinato dalla presenza di un fiume maniale dove è nato 3.9 l'utilizzazione per certistica è uno dei presupposti stabiliti dal DPR 308 2001 dai fini della deroga inoltre è lavoroso specificare che l'edificio di progetto di forma di planimetria presenza di mesura 10 metri per 5 altezza di 3,5 vista dal ciclo stradale 10 metri 1,60 e dall'oratorio 20,77 in data 26.02.2010 con verbale numero 7 del punto 1 la commissione di risa comunale integrata ha espresso parere favore alla realizzazione dell'edificio in parola come l'istanza di autorizzazione presodistica in data 3 del 3 del 2011 il protocollo 27.09 il responsabile per il paesaggio del comune di Nogara ha chiesto ai sensi dell'articolo 146,7 il parere vincolante della soprintendenza per i pieni ambientali e pazienti di Verona come previsto dall'articolo 146,5 il GL 42 2004 è ricevuta dalla soprintendenza in data 13.2011 l'istanza è stata inviata a mezzo raccomandata RR anche alla fondazione San Vorto Romeo Apostolo a mezzo raccomandata ed è stata ricevuta dal signor Armando Trevisani in data 11.3 2011 in quanto la richiesta del suddetto parere costituisce avvio di procedimento ai sensi della legge 241 41.1990. In data 18.3.2011, protocollo 3422, pratica 4.262-11c, la Fondazione San Bartolomeo Apostolo ha presentato domande di permesso di costruire per la costruzione della sacrestia in parola, sebbene fosse ancora in corso e quindi non definita, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesatristica. Si specifica che il progetto edificio corrisponde a quello rappresentato dalla domanda di autorizzazione paesatristica nel 18.12.2010. In data 34.2011, mediante specifica valida da parte del commissario straordinario, è stata operata una revisione di settori, unificante di settore operante per il paesaggio e settore edilizia privata e urbanistica, determinati di conseguenza da fare i requisiti necessari per poter esercitare i poteri di me e che stabiliti dalla regione Veneto, ovvero separazione tra l'aspetto edilizio ed aspetto paesatristico. Questo ve lo ricordate perché è stato contatto anche qui in Consiglio Comunale. In data 10.5.2011 è stato verificato che la sovretendenza, non avendo reso il parere richiesto, in data tra il 3.001, sarebbe stato possibile rilasciare l'autorizzazione paesatristica richiesta. Tuttavia, per effetto dell'unificazione dei settori e della perdita di requisiti stabiliti dalla regione, non è stato possibile rilasciare l'autorizzazione paesatristica. In tale periodo l'amministrazione ha preso in considerazione la possibilità di ridividere con urgenza i due settori, ma per problemi economici e di fatto di stabilità in quel momento non è stato possibile. Si è proceduto quindi, secondo le disposizioni della regione Veneto, a stipulare una convenzione in data 29.9.2011 con la quale è stabilita l'attribuzione delle procedure di carattere per esercizio e reciprocamente tra il Comune di Alta Veronesa e quello di Nogano. In data 8.6.2011, protocollo 8.570, pratica 4.887-11c, è stata presentata, ed è qui il punto interrogativo che per me è questo, è stata presentata con una nuova domanda, vi permesso di costruire per la costruzione di una sacristia di pertinenza a un'autorizzazione titolata San Portolomeo Posto nella località Pavanara. L'edilizio risulta diverso. Per dimensioni e altimetriche, e un'autorizzazione titolata di un'autorizzazione titolata di un'autorizzazione e un'autorizzazione titolata di un'autorizzazione titolata. L'autorizzazione titolata di un'autorizzazione di un'autorizzazione titolata, quindi misura 5,20 per piezi 1,90, a un'altezza di 3,70, e questo dalla strada 10 metri e dall'oratorio 17,50, quindi misura i più forti rispetto al precedente domande. I nuovi elettorati rappresentano un edificio diverso per dimensioni altimetriche e ubicazioni rispetto a quelli presenti in sedi di richiesta e di autorizzazione paesazzistica. Quindi noi abbiamo una domanda che attende la risposta paesazzistica e contemporaneamente un po' di tempo dopo viene mandata agli uffici tecnici un'ulteriore domanda per un edificio collocato sempre nella stessa posizione però un po' più lontano dalla strada un po' più lontano dalla chiesa e con misure completamente diverse. In dato 23.7.2011 con verbale numero 0.8.14 la commissione di rizzo comunale integrata ha espresso parere favorevole subordinato alla regola in cui ha il DPR 380.2001 in relazione alla domanda di permesso di costruire del 18.3.2011 per i quali i lavoratori di progetto corrispondono a quelli allegati alla domanda di autorizzazione paesazzistica. In dato 25.8.2011 l'amministrazione comunale stila l'ordine del giorno per il consiglio comunale del giorno 8.9.2011 inserendo lo derogato di PRD come datato da CEC. In data 31.8.2011 il protocollo 11.300 l'architetto Casari Enrico in qualità di progettista chiede l'archiviazione della domanda del permesso di costruire il protocollato dal 28.6.2011. In data 8.9.2011 con delibera del numero 26 il consiglio comunale è qui davanti presenti approva la deroga alle norme del PRD in quanto risulta ancora in essere la domanda di permesso di costruire presentata 18.3.2011. L'ortocollo 3.422 patica 4.862 patica 4.862 patica 11.6. In data 16.9.2011 l'ortocollo 12.024 il presidente Ardanto Trevisani della fondazione Rottorio San Bortolomeo Apostolo richiede l'archiviazione di ogni pratica edilizia creativa all'intervento per la costruzione della sequestria in parola. È da tenere presente che tutte le pratiche edilizie ricadenti nella fascia di tutela pesatristica presentata nell'ufficio tecnico hanno avuto le stesse problematiche risolte e partate dal 29.9.2011 per effetto della convenzione stipulata col Comune di Gazzio Veronesi. La mancata erogazione di contributi economici lamentati dalla fondazione in relazione dell'opera del progetto non risultano scomentabili e comunque non rappresentano motivo per poter dare preferenza alla pratica rispetto alle altre presentate nello stesso periodo. Le lungazioni lamentate sono da attribuire sicuramente alla nuova organizzazione degli edifici operato dal commissario straordinario bloccando di fatto l'operatività della delga per la tutela pesatristica del Comune a far data 34.2011, non chiede dalla presentazione di un'ulteriore domanda di costruire data 8.6.011 protocollo 8.570 pari a 4.886 pari a 11.Ci con progetto sostanzialmente è diverso da quello provato in sede di tutela pesatristica per dimensioni ed ubicazione e ha portato gli uffici tra posti a una sostanziale perplessità sulla duplice domanda di permesso di costruire e in particolare a quale vede due doverla corso. Si ritiene che l'ufficio tecnico ha operato secondo le possibilità e le facoltà proprie, tenendo conto anche sia del carico di lavoro sia delle difficoltà del figlio dello stesso a causa dell'apparenza di personale tecnico. Si ricorda che con la fine dell'amministrazione del sindaco Ligieri hanno cessato l'incarico l'ingegnere provato Luizzi e l'attivista Giorgio Carvelli. Questa è la risposta. Prego, non per me. Sono finale di quello che stiamo dicendo. Come è vero? 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 Ah, va bene, va bene, va bene. Come è vero? Io ho sentito tutta la relazione fatta probabilmente dagli uffici e va bene perché comunque va a integrare tutto il resto della discussione. Quello che dico io, prima sembrava e ha passato anche dal parte del vice sindaco un aspetto che vorrei parlare, un aspetto religioso. Non è niente, no? Non è niente asserente. Vorrei non parlare, no? Porta per l'inforzo. Porta per l'inforzo. Io che ho detto, dottor Eppi. Anche qualche signora ho detto insediamento, al porto di rispondere alle domande, e ho sempre fatto altre domande che te le faceva, quindi magari finire lo scorso dopo doniamo. Le rassicurazioni, quello che vorrei capire, fatte anche dal sindaco sulla posa del da prima chiedra, in trova ad agosto, sono state fatte, come mai effettivamente sono state rispettate. Queste sono voci che sono venute fuori, sono arrivate anche sulla stampa, quindi probabilmente se un sindaco dà una rassicurazione anche sulla dentistica, perché padrono, sul buco è quel giorno, si vede che l'ha fatto pensando che le cose andassero in una certa maniera. Quindi, quasi in conto ci sarà stato, se non possiamo parlare di un'altra situazione. Quello che dico è che non è da cavalcare un aspetto religioso, dove questa sera, al di là delle 50 persone che ci sono qua dentro, quelle che ci sono, domani probabilmente non se ne sentiranno neanche parlare, tutto muore qua. Il discorso è che in un periodo di macchie magre, dove non più lontano di sabato scorso con il sindaco abbiamo fatto una chiacchierata sulla necessità di approfondire tutte le questioni eventualmente a costo zero per il comune, questa cosa potrebbe essere una di quelle. Da quello che si legge sono state scritte tante carte, probabilmente sono stati anche contattati i vari uffici, quindi con dispendio di tempo per preparare relazioni e quant'altro, dove probabilmente bastava un quelpo di telefono, perché il ruolo del vice sindaco, dell'assessore comunque che hai, lo impone, al di là che dall'altra parte tu trovi una persona che ti sia simpatico o antipatico, non cambia niente. Però dico, il fatto di arrivare questa sera, dove noi abbiamo protocollato questo a fine settembre, al momento comunque era l'ordine del volo già da tempo, e non c'è tanto, prendiamo anche dal 29 di settembre un giorno per arrivare a fare un colloquio di persona che magari evitasse che anche la questione andasse su altre frasi. Arrivare questa sera e dichiarare da parte tua, dove gli facciamo questi permessi, dimostrando comunque che non sapevi neanche che aiutarlo, e scusare i pacchi, dimostrando comunque di non aver a questo punto neanche letto quanto era stato proposto da parte dell'associazione, perché se a corto zero ti diceva il terreno è nostro e tutto, penso che sia qualcosa di abbastanza preoccupante, quindi eventualmente la prossima volta, questo è un consiglio che do, siccome abbiamo la sicurezza che tutti i due punti che chiediamo verranno vociati, quello che posso dare come suggerimento è che dato il ruolo di assessore che hai, eventualmente anche un colpo di telefono verso i diretti interessati, per la primavera di consultare, che dubito fortemente, per la primavera di consultare. Allora, Flacco, sicuramente se hai in modo esplicito per fare un prologo di quello che sta la parola che c'era, io dò canelate, io dò canelate, non vorrei essere, cioè posso parlare io, ma perché tu vai a dire, ho alcuni punti interrogativi, anche io li ho, perché ho capito cosa sono andato a votare l'altra volta, hai capito? No, quindi lo sto chiedendo io con te, cioè lo stiamo chiedendo noi a te, e mi fa piacere che tu abbia, che abbia anche tu dei punti interrogativi, perché quando ce l'ha parlato, i pacchetti, e quindi non hai neanche conosciuto la persona che ha fatto la richiesta, e mi ha chiedere a noi dove, dov'è che andiamo a fare l'esproprio sinceramente nella cosa che eventualmente questo è un'altra parte, perché d'altro tipo, siete senti l'assessorato di competenza, e da dove è foro che la terra l'abbiamo fatta anche in altra parte, per cui... Non lo sapevate neanche voi? No, avete senti l'assessorato di competenza? Io ve l'ho chiesto, non lo sapevate neanche voi! Noi, qui in consiglio originale, chiediamo delle spiegazioni in merito a questo punto, che l'opiniana è che sei l'assessorato di competenza, l'assessore di competenza, Sì, io la cosa non la so, posso? Posso? Sì, ti vado in scusa, ma io devo dire quello che devo dire. Allora, prima ho detto, tre date, perché così devono capire anche i spermini, 18 marzo 2011, ed è la stessa cosa che ho detto un'altra volta, viene presentata la domanda di permesso di costruire, la parte della formazione, 23.07.2011, dopo quattro mesi, parere favorevole della Commissione di Vizia, quindi la Commissione di Vizia dice ok, tu vuoi costruire? Vabbè, no. L'opo 09.2011 ci troviamo in uscita comunale, per discutere una cosa che non ho ben capito o che conoscerò una parte romani, e sostanzialmente nel frattempo la Commissione perde il contributo e la ciò che stiamo viene costruita. Scusa, scusa, come, no, come ci siamo, in carta di Vizia, no? Sì, perché non ho, in carta di Vizia, no? No, posso, allora, 18-32. E confermi queste, il 18 marzo 2012. Ok, quella ci sono. Allora. E i 3.07, pareremo, 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 la Commissione di Vizia. No, aspetta, grazie, allora. E i 3.07, se non me ne confermi, aspetta, sulla Vizia, no, pareremo, pareremo, le ho prese, scusate, ma queste date qua, le ho prese, la data di Ipera, che è stata provata, ho portato il Consiglio Tribunale l'altra volta. E' sta io prendendo. Ho scegliato 3 dati, di 100 marzo, e poi ci sono una domanda, poi, scusa, cioè, mi ritirà fuori ancora tutto quello che sta a tirare fuori l'altra volta. E' qua una volta, che cosa stai? Il senso di questa decisione è questo qua. Cioè, noi chiediamo, impegniamo il Consiglio Comunale, il sindaco e la giunta a fare chi arresta nel prossimo Consiglio Comunale, che sarebbe questa, tra l'altro, la data del 29 settembre del 2012, quindi anche qua con i denti, diceva, da noi che eravamo con i punti, però, mi sembra che qua, a fare chi arresta nel prossimo Consiglio Comunale ultimo di quanto accaduto. Poi, chiediamo anche un'altra cosa, che qui è passata un po' sui domande, invitandoci a fare un modo, chiedete il suo stilo, se io ci sono andati, potete essere che, che è la fondazione, va a te la corretta, dovrò chiamare il mio posto, ma voi dovete chiamare questa informazione alovo. No, perché, in seguito, vi mando il capo gruppo, su questo punto, pari, a capo di escusa, cioè, questa è una richiesta, che noi, da capo fatto voi, dovete chiamare alovo, non ho fatto. Allora, ti escuso, posso risponderti? Allora, ti rispondo io per quanto mi consente. Allora, variam ancora da me, cioè, non variam ancora da me. Quindi, la richiesta che abbiamo fatto, noi e voi, di chiamare la fondazione, è stata fatta o no? No, posso rispondere a te. No, sì, la vorrei dire. No. Il discorso dei parcheggi, il discorso di sicurezza, è questo che volevamo capire. Poi abbiamo capito tante altre cose dopo. Ok? Poi, secondo noi, in premessa, abbiamo messo alto un altro concetto, che significa, non è la seduta del Consiglio Comunale scorso, dove Simone Marcava, ma se ha visto il video, la seduta di questo Consiglio Comunale, per esempio, della discussione, che chiede agli consiglieri comunali di approvare al punto senza entrare profondamente nel merito della discussione, e invita, e invitò a contare la stessa, lasciamo gli stagini in tale richiesta di profondimento, e le risposte sono a queste. Cioè, la sede del Consiglio Comunale è una sede preposta, dove noi, consiglieri di gestione, possiamo fare qualsiasi richiesta legittima nei confronti del tuo assessorato di competenza. Addirittura un qualche consigliere di maggioranza vostro dice che e qua, anche io, penso che si possa vedere e visualizzare, no? Non è come solo cosa che ci stiamo inventando. Alcuni consiglieri di maggioranza, in occasione del Consiglio Comunale, sopra citato, chiedono di seguire bene, è virgolettato, seguire bene questa pratica presso un assessorato di competenza. Quindi, ci sembra una cosa legittima aver fatto questa richiesta. Quindi, posso rispondere io? Vedi gli altri interventi? Ci sono altri interventi? Allora, vadovi. No, no, fatti lì, dai. Ah, voglio solo dire, prego. Che per cui è una differenza di voto, per favore, siamo mai trovata mia. Mi astengo anche questa volta. Sono un tipo di arresto. Allora, una cosa che mi è rimasta impressa, quel giorno ho avuto un altro articolo, perché non ho mai tante cose da pensare, però questo mi è rimasta molto impressa, che è stato trascritto in condizione riservata. Chi ha fatto quell'articolo? Volevo sapere. Vorrei che fosse uscire a fare questa roba. Non mi ha capito. Perché l'articolo dell'Arena non era firmato. Ah, va bene. Non era firmato. Posso rispondere? Prego. Tecnicamente un mio amico mi ha detto che, che lui si occupa di queste cose, mi ha detto che quando non è firmato... il direttore... Il direttore... Il direttore praticamente che... Dopo... Non so se mi sta lungo... Il direttore è chi l'ha fatto. Sì, sì, no, mi diricolo al classico, per lei... So che... La cosa numero due, ti ringrazio, la cosa numero due, che volevo rimarcare, quello che ho rimarcado l'altra volta, che un processorato seguisse bene, anche perché, visto che la cosa è andata, diciamo fuori dal binario del Consiglio Comunale, ma su altre cose, allora mi sembra anche corretto parlarne per carità. Però, tutte le conclusioni sono, secondo me, fuori luogo, perché se c'è una cosa della magistratura o che deve andare avanti, lasciamo parlare della magistratura. Sì, però... Esatto. Noi stiamo discutendo su certe cose, però a un certo punto, non so, va bene discutere perché è giusto, però, a un certo punto, l'ultima parola sarà lasciata a chi finora. Giusto, se lo so, non c'è dubbio, ti prego, finalmente la cosa. Allora... Allora, per quanto riguarda il discorso dell'altra, non ho capito bene, tra l'altra, se è lo stesso, ma a quanto capito, mi interessa più di tanto la mia opinione, mi interessa più che altro, dire, cerchiamo di dare la forza, addosso una forza, a noi più di quello che è successo. Allora, premetto, perché quell'articolo a cui si discoglisse adesso il piatto gruppo Torniamo, è l'articolo che mi sono letto anch'io la prima volta riguardante questo caso. Cioè, io ho visto un articolo sul giornale, addirittura non firmato, probabilmente qualcuno è andato a Verona o ha, diciamo così, parlato con giornalisti dell'Arena presso il giornale, ed è venuto fuori questo articolo. quindi, io mi sono interessato, al caso quando ho visto un articolo. Certamente. No, non potevo interessarmi più ma ti spiego il perché. E' qui presente Armando, 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 però io e il signor Armando non ci siamo mai conosciuti né parlati. Sono venuto a conoscenza dell'articolo in cui venivo citato, per nome e cognome, e ho cercato spiegazioni ai quali. Però, come fareste voi addentrare in un argomento già passato, oltretutto, perché quasi già si facevano delle accuse che si andavano in largo di discorso? Andando all'ufficio e chiedendo spiegazioni. Mi sembra una cosa normale. No, no, io sono andato. Va bene. Allora, in quel momento è nata una relazione e una parte di questa, non è tutta, in cui si spiegava che erano stati presentati due disegni. Questa qui, allora, si vede che non mi hai ascoltato. Perché si aspetta, che riferimento all'azione del 23 nove 2011. Quindi, è una risposta alla mozione che avete fatto voi. Come mai sono stati pubblici? Perché la mozione va votata, avete 90? No, no. Se ne vuoi, te ne farò una cosa. Scusate, allora, poi chiedi a me di non interromperti. Giusto? E' vero che è così? Ma no. Allora, praticamente, questa relazione con Pagli di Date, mi viene spiegato che a un certo punto quella chiesa non è in territorio agricolo normale, purtroppo ha un vincolo che è paesatistico. E' questo che ha inchiolato l'azienda. Perché, come sapete, se dovete portarlo qui al Consiglio Comunale, la Commissaria, nel corso del suo mandato, come si è detto anche in questa relazione, aveva troppo diviso i settori. Era diviso il pubblico dal privato. Purtroppo, la Regione Veneto, a un certo punto, per rilassare i permessi con questi vincoli, deve andare sia in Commissione Edilizia, però deve anche attendere i tempi tecnici per questo tipo di pratiche. Noi eravamo, di fatto, bloccati. Ci siamo bloccati solamente quando il gas e che è un'azienda